Dopo la firma del patto di sistema che mette insieme Regione, Confindustria e Sindacati in un fronte unico per un piano straordinario per il lavoro e la crescita della Basilicata, si è insediata la cabina di regia strategica, punto di raccordo essenziale per la verifica dell'attuazione del patto. La cabina di regia è coordinata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da Confindustria Basilicata e da CGL Cisle Will, soggetti sottoscrittori dell'intesa che si incontreranno a intervalli bimestrali per monitorare lo stato di avanzamento delle singole misure e le ricadute prodotte attraverso indicatori di realizzazione e di risultato. Coerentemente con le indicazioni della cabina di regia strategica avrà compiti operativi invece la cabina di regia interdipartimentale coordinata dal Direttore Generale della Presidenza della Giunta. Il patto programmatico mette al centro dei suoi interventi i temi cruciali dello sviluppo regionale, dell'ammodernamento della macchina regionale, della tenuta sociale, del lavoro e del sostegno all'imprenditoria. Il pacchetto delle proposte muove risorse finanziarie per circa 150 milioni di euro e si snoda in tre assi principali, occupazione, burocrazia e competitività.